Nella lezione di ripasso precedente abbiamo parlato del complemento di specificazione e abbiamo detto che è introdotto dalla preposizione di, semplice o articolata, e risponde alla domanda di chi di che cosa. Qui davanti adesso hai due frasi. La città di Ivrea è in Piemonte, gli abitanti di Ivrea sono piemontesi. A una prima occhiata, subito vediamo che anche qui ci sono, sia nella prima che nella seconda, due preposizioni di la città di Ivrea, gli abitanti di Ivrea. L'errore più grande che si potrebbe fare è partire subito in quarta dicendo Ah, bene, c'è di, quindi di Ivrea, complemento di specificazione. Attenzione! Abbiamo detto guardare le preposizioni, farsi le domande, ma ragionare. Partiamo dalla seconda frase. Gli abitanti di Ivrea sono piemontesi. Sono piemontesi. Predicato nominale. Chi compie l'azione di essere piemontese? Gli abitanti. Gli abitanti sarà il mio soggetto. Gli abitanti, mi dice poco, di Ivrea specifica meglio qual è, ad esempio, il luogo dove vive questa gente. Quindi, gli abitanti soggetto di Ivrea, complemento di specificazione. Proviamo ad applicare lo stesso ragionamento alla prima frase. È predicato verbale. Perché predicato verbale? Perché, in questo caso, il verbo essere significa trovarsi, esserci. Quindi non è predicato nominale. Chi compie l'azione di essere? La città. Di Ivrea. Attenzione bene. In questo caso, di Ivrea rientra in una di quelle sfumature del complemento di specificazione che abbiamo visto la volta scorsa. Mi dice che Ivrea appartiene alla città? Direi proprio di no. Posso sostituirlo con un aggettivo? No. Che cosa mi sta dicendo, in realtà, di Ivrea? Mi sta dicendo qual è il nome della città. Allora, non è un complemento di specificazione. Si chiama complemento denominazione. Fai attenzione al nome. denominazione. Contiene la parola nome. Perché? Perché questo complemento ci dice come si chiama quella città che si trova in Piemonte. Quindi, gli abitanti di Ivrea. Di Ivrea, in questo caso, è un complemento di specificazione. Ma la città di Ivrea è un complemento di denominazione, perché mi sta indicando qual è il nome della città. Infatti, la caratteristica di questo complemento è proprio quella di seguire, di solito, un nome comune generico che riguarda luoghi geografici. Può essere il nome di città, mesi, monti, elementi geografici di qualsiasi tipo. Quindi, dobbiamo fare molta attenzione a non confonderci. Come possiamo aiutarci in questo? Provando a sostituire il nome generico città con il nome proprio del complemento. Invece di dire la città di Ivrea, io posso dire semplicemente Ivrea è in Piemonte? Certo. Proviamo a farlo con la frase sotto. Posso sostituire gli abitanti con Ivrea? Ivrea sono piemontesi? Ma proprio no. Vediamo allora insieme qualche altro esempio. Il mese di gennaio è il più freddo. Sappiamo già che questo è il nostro predicato nominale. Chi compie l'azione di essere il più freddo? Il mese. Di gennaio. In questo caso, di gennaio, indica un'appartenenza? Assolutamente no. Posso sostituirlo invece di dire il mese di gennaio? Posso dire semplicemente gennaio è il più freddo? Sì, certo, perché in questo caso gennaio è il nome specifico, preciso, di un mese che invece mi indica un nome generico. Ricapitolando, il complemento di denominazione, precisa tramite un nome proprio il nome generico che lo precede. L'abbiamo visto anche nelle frasi di prima. Città è un nome generico. Ivrea è un nome proprio. Ivrea è il nome specifico di questa città? Sì, quindi di Ivrea è il complemento di denominazione. Anche qui abbiamo un nome abitanti, generico, comune, e qui abbiamo un nome proprio. Rifacciamo la stessa domanda. Ivrea è il nome degli abitanti? No, assolutamente. Quindi, in questo secondo caso, rimane un complemento di specificazione. Come sempre, adesso puoi metterti alla prova per vedere se hai capito la differenza tra complemento di specificazione e complemento di denominazione. Ferma questo video e poi cerca di capire, anche copiandole sul tuo quaderno, se i complementi che ho sottolineato sono complementi di specificazione o complementi di denominazione. Vediamo insieme il risultato. Nella città di Mantova. Mantova è un nome proprio di città. Questo deve già farmi scattare una sorta di campanellino d'allarme. Mantova è il nome proprio della città di cui sto parlando? Certo. Quindi, in questo caso, di Mantova è complemento di denominazione. In effetti, pittura non è scritto con la lettera maiuscola, non è un nome proprio. Veniamo alla frase numero due. Le isole della Polinesia. Lettera maiuscola, nome proprio. È il nome delle isole? Certo. Allora, denominazione. Frase numero tre. Il giorno di Natale. In questo caso, possiamo dire che Natale è il nome proprio del giorno di cui sto parlando? Certo. Perché mi sta indicando quel giorno lì, preciso, Natale. Tant'è vero che io potrei sostituire nella frase il giorno mettendo semplicemente Natale. Trascorriamo il Natale con i parenti di mia mamma. Allora, di Natale è sicuramente denominazione. Invece, con i parenti di mia mamma, mi dice semplicemente di chi sono i parenti di mia mamma. Quindi, specificazione. Frase numero quattro. La torre di Pisa è sottoposta a una serie di verifiche statiche. Di Pisa. Lettera maiuscola. È il nome della torre? Certo, quella torre che tutti noi conosciamo col nome di torre di Pisa. Quindi, denominazione. Invece, di verifiche statiche è semplicemente complemento di specificazione. È sottoposta a una serie di che cosa di verifiche. E veniamo all'ultima. Le vie della città di Torino sono ben illuminate. Le vie della città, complemento di specificazione. Le vie di che cosa? Di che cosa sto parlando? Delle vie della città. Quindi, specificazione. Ma quale città? La città di Torino. Ecco il suo nome. Quindi, denominazione.